Breve video presentazione della mia nuova fototrappola Seymour CY95 fototrappola con pannello solare acquistata su Amazon per circa 88 euro nella sua confezione troviamo un cavetto USB di tipo C una cinghia per il fissaggio a tronchi, pali eccetera poi sempre all'interno c'è un altro kit di fissaggio questo è per il fissaggio a parete con i tasselli ma non credo che mi servirà troviamo anche il libretto di istruzioni che è tradotto anche in italiano no Iago no non lo rompere dai e adesso se la devo rimandare indietro perché non funziona che io dico vabbè dicevamo libretto di istruzioni anche in italiano c'è scritto che la prima volta prima del primo utilizzo va messa sotto carica per 8 ore poi passate questo 8 ore e poi è pronta per essere messa in funzione questa è la fototrappola fototrappola che ha tre sensori, uno centrale e due laterali qua si apre nello sportellino c'è il codice QR per scaricare la sua applicazione sotto l'ingresso USB e lo slot per la microSD con cui viene fornita che è da 32 giga poi c'è il vano per quattro batterie quattro batterie che servono qualora la batteria integrata dovesse scaricarsi quindi fa da riserva ed è utile perché se viene messa in ombra o un periodo in cui non c'è il sole va a utilizzare quelle batterie poi da qua si accede al menu tutti i vari settaggi tutta destra si va su on e tutta sinistra si spegne bene passata una notte mi trovo vicino alla fototrappola e mi sono collegato ad essa con la sua applicazione come vedete nella schermata principale viene mostrato il video in diretto di ciò che vede la fototrappola cosa molto utile per andare a regolare l'inquadratura andando a cliccare sull'icona dell'ingranazzo si accede al menu delle impostazioni quindi già dall'applicazione è possibile andare a fare tutti i vari settaggi mentre andando sull'icona della galleria si accede alla memoria interna della fototrappola per vedere se ha registrato qualcosa andiamo su video e si ha registrato tre video di istrici e chissero selezionandoli si vanno a scaricare direttamente sul telefono senza star lì a togliere schede a portare la casa eccetera quindi è molto comodo che abbia il wifi con cui collegarsi con il telefono e adesso rimetterò i video e vediamo la loro qualità questo è il primo video e già da subito mi salta all'occhio un aumento di qualità rispetto alla CY50 che avevo e l'altra cosa è la buona illuminazione della scena i video sono in 4K come prima impressione è buona sono delle belle immagini se vi piace questo genere di video fatemelo sapere che magari ne farò altri più approfonditi e alla prossima